riccardo trevisani buongiorno ciao riccardo buongiorno a tutti come stai è un po che non ci si vede qui come stai molto bene molto bene ultimi giorni di vacanza e poi si riparte edo a domenica roberto povanello con noi arriva più avanti luca momblano ti facciamo un po di domande ti sfruttiamo per poco più di mezz'oretta vacanze riccardo io ti vedo belle vacanze di dici qual è il posto dell'estate dici qual è il posto dell'estate dove dove ci diverte il mio è sempre las vegas professionistico se non sbaglio no il mio è sempre las vegas si vado quasi tutti gli anni a andare di poker perché è una roba che mi piace molto che mi rilassa e col fuso indietro soprattutto il telefono è praticamente disattivato tutto il giorno perché nelle nove ore che tu hai di differenza diciamo dalle cinque in italia las vegas in italia sono le due di notte quindi non scrive più nessuno poi tu vai a dormire l'italia si sveglia quindi è sempre sempre contromano e non è male per per staccare perché se vai in sardegna o non lo so se sempre questo telefono su mercato quello quell'altro e non non ti sconnetti veramente invece lì mi chiudo in un mondo diverso e e sto bene così allora ragazzi come sempre non serve preambolo lo facciamo per chi non no anzi non lo facciamo neanche comunque chi se ne frega a me fa sempre piacere per riccardo esattamente come avere francesco arepice ordine sabatini ogni tanto ci becchiamo i ci avete tutti allegriani ogni tanto ci avete tutti gli anti allegriani ormai c'è questo strazio tra noi juventini devi capire riccardo che se dici secondo me chiesa ha sbagliato una giocata sei un allegriano perché allegri non vede chiesa se invece dici blaovic non so cosa diventi un anti allegriano non lo so questa è la nostra vita riccardo noi vogliamo invece i tuoi pareri perché me che è allegriano io ho avuto un passaggio di transizione ecco vabbè tutte le persone intelligenti hai cambiato idea ti sei reso conto dei fatti e hai cambiato giustamente idea ti sei ben evitato e dalla parte di trevisanti no allora in questo momento non so se ti convenga dire che sono intelligente però come ho detto prima commento quello che vedo quindi niente in questi due anni in questi due anni l'ho scritto anche ieri purtroppo si è visto il nulla perché nel discorso di questa rosa di questa rosa in questo campionato italiano la juve secondo me con un impegno a settimana deve essere tra le favorite allora ora ci andiamo con riccardo noi che tifiamo per la juventus di allegri dal momento esatto in cui è stato confermato siamo stupidi perché non abbiamo perché non abbiamo capito no no ma proprio perché hai l'allenatore più pagato che secondo me è un bravo allenatore ma che in questi due anni purtroppo a livello tattico a livello anche di condizione atletica abbiamo visto veramente poco se non niente con un impegno a settimana abbiamo trovato diversi alibi in questi due anni adesso sei un impegno a settimana se ti rimane indicativamente la rosa che avevi che comunque era più forte delle 30 sconfitte in due anni 30 sconfitte in due anni lo ricordo per me devi essere tra le favorite ma tra le favorite io farò la guerra d'allegri se la juventus non otterrà risultati non faccio la guerra d'allegri prima che cominci il campionato non mi faremo non fa la guerra aspettate ragazzi intanto intanto bentornato a luca momblano ciao luca ciao ciao massimo ciao a tutti piacere essere qua allora io direi ragazzi come abbiamo mezz'oretta con riccavo trevisani no anche di più anche di più ma ho avuto 20 minuti di mecca e pavanello che non mi dicevano una cosa che fosse una ora è arrivato trevisani arrivato momblano e mecca e pavanella discutono 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 se la juve favorita allora riccardo partiamo da una cosa togliamoci il presidente brutto e sgradevole con i nuovi juventini non è un discorso di anti come scrivono e poi con i nuovi juventini che quello extracampo io faccio fare un discorso solo a te non faccio contraddittorio come invece magari facciamo in televisione qua sei tu l'ospite mi interessa il tuo parere nell'insieme a fine anno così ce lo chiudiamo subito premetto non sarà un dibattito su questo tema qua però mi fa piacere che tu di fronte alla community juventina possa dire come dire in modo alla conclusione la tua tu hai detto a inizio anno sostanzialmente qualcosa c'è dici io non sono un avvocato un legale il giudice però come dire qualcosa ci sarà quindi arrivato a questa qualcuno dice troppo morbido qualcuno dice troppo duro io che l'ho contestato sempre riccardo è stato soprattutto relativo ai tempi no tre mesi quattro mesi aprile ce li ridanno a maggio ce li ritolgono l'uefa che ci fa sapere il 28 luglio intanto il barcellona si gode la sua champions il city si gode la sua vittoria in champions cioè c'è qualcosa comunque che non ti quadra o tu sostanzialmente ti rifai alle decisioni e mi rimandi a quello ci siamo detti in tv come dire non decido io ma se hanno deciso così qualcosa ci sarà chiudiamo poi questo tempo che 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 è tutto brutto cioè tutto brutto nelle tempistiche nelle modalità nel fatto che succeda durante il campionato non non mi piace niente di quello che è stato fatto e e gestito ribadisco che qualcosa ci sarà perché è evidente che che non non possa essere una cospirazione internazionale questo lo penso ma che non mi sia piaciuto niente della gestione italiana europea di questa situazione te lo confermo e te lo ribadisco cioè la la roba di prendere i punti togliere poi ridare poi ritogliere poi la la forza in europa viene tolta ma non si sa quando se per una stagione due tre in base chi decide cosa c'è chi è che decide quando la juve viene stromessa dalle coppie europee cioè dovrebbe arrivare qualcuno che dice allora per i prossimi tre anni qualsiasi coppa faccia non c'è oppure è una cosa che dura un anno oppure è una cosa che riguarda solo la conference league ma non la champions league cioè avere una cosa chiara è vero che è tutto molto poco chiaro però io credo che gli organi competenti per darci delle informazioni competenti e invece mi sembra che queste informazioni competenti non stiano eh arrivando e non siano arrivate poi separo il discorso del campo dell'anno scorso dalle decisioni che sono state prese perché perché non posso pensare che mh Maccabi Haifa Juventus sia figlia del fatto che tre mesi dopo sarebbe arrivato alla penalizzazione ovviamente così come così come nel momento in cui i punti te li danno indietro tu non dovresti perdere partite dovresti essere fomentato a bestia dal fatto di aver recuperato sti punti e non fare la figura che hai fatta a Empoli tanto per citarne una quindi distingo i discorsi è stato tutto terribilmente brutto nella gestione e pregherei il sistema calcio di organizzarsi al fine di fare le cose giuridiche dall'uno giugno al quindici agosto non dovrebbe essere particolarmente difficile organizzarsi per mettere in piedi un qualcosa che non vada ad influire sul campionato ma siccome siamo in un paese dove a oggi non si sa oggi praticamente prima agosto quante squadre giocheranno in serie B è evidente che il problema non è la Juventus ma l'Italia. Allora andiamo sul campo ragazzi era questo volevo che Riccardo parlasse alla community di Juventus secondo il suo parere ma non riapriamo qua possiamo fare sei ore sapete che noi ne parliamo spesso io a Riccardo che è appassionato di calcio da quando lo conosco. È stato un processo politico una sentenza politica i risultati sul campo poco contano si voleva punire la Juventus a livello italiano a livello europeo ed è stato fatto punto. La Juventus poi ha patteggiato perché ha accolto il discorso politico e quindi in maniera politica ha patteggiato. Pareri diversi dai li conosciamo tanto ragazzi siamo qui voglio ascoltare io Luca ti chiedo una cosa di campo Luca anche tu sei tornato ora e poi andiamo anche da Riccardo e partiamo con la tesi Edoardo e Roberto sulla Juve come parta la griglia che mercato è che la società com'è se è solida o no sono molto curioso i pareri anche di Riccardo Luca la domanda che ti faccio è la Juve senza conference da noi non ne hai parlato perché non c'eri vantaggio svantaggio sul campo è al di là del piacere che ti fa o meno sei di quelli che pensano giocare una volta a settimana alla fine prendiamoci questo o quelli che pensano sarà dura perché se poi pareggi la domenica devi aspettare una settimana per rigiocare e poi Luca qual è la tua opzione opinione sulla stagione senza Europa e sei mutato ecco sei mutato sei mutato sei mutato trovo trovo ci siano argomentazioni solide sia per chi vuole accogliere come un bene questa questa conseguenza diciamo di ovvero di non disputare la conference visto che tra l'altro è la conference sia chi come me invece avrebbe preferito giocarla quindi a livello diciamo così vista da lontano la questione a lontano ormai sappiamo la ben digerita forse eccetera vale vale secondo me un dibattito troverebbe da una parte dall'altra quasi pari argomenti devo dire che come sempre la verità sarà posto perché se vinci il campionato o torni a giocare davvero per primeggiare poi poi vincere non vincere questione di dettagli essere nella corsa scudetto cosa che non facciamo da da tre anni consecutivi noi non ci siamo la juventus non c'è nella corsa scudetto questa è la notizia diciamo più più difficile da 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 accettare per la tifoseria secondo me perché è ovvio poi se vuole vincere però non vedere più veder sparire la juve dalle corse scudetto corse corse neanche dalle volate neanche dalle volate dalle corse scudetto per tre anni la juve in italia per il tipo di status cioè io era il bayern il bayern non è detto di germania il bayern non è detto che vincerà tutti i prossimi trenta campionati ma io sono sicuro che tre anni di fila senza essere nella corsa scudetto non accadrà mai e noi pensavamo devo dire che da questo punto di vista il calcio è bello anche per questo di invece di aver acquisito uno status per cui lì noi ci siamo invece in maniera abbastanza irrazionale e infine anche drammatica perché sul computo finale della decisione uefa fuori dalla dalle coppe e sanzione tra i 10 e i 20 milioni diciamo 10 che potrebbero essere attenti per diventare 20 il tema è che il lascito di questi sette otto mesi sono l'esclusione della champions la retrocessione dal terzo al settimo posto inibizioni al limite della radiazione per i dirigenti più importanti operativi apicali della juventus e una multa non dico senza precedenti ma sicuramente tra le più salate possibile con una chiara violazione del fair play finanziario chiara a detta del dispositivo che abbiamo letto cioè insomma di una gravità incredibile cioè letta da vista da fuori c'è da fuori c'è non lo so un giornalista colombiano che non si occupa di serie a prende agli atti quello che è successo negli ultimi cinque mesi alla juventus dice ma questi sono delinquenti veri cioè a me sembra a me sembra che tutto questo oggi sia acqua che ci è passata sotto gli occhi abbiamo voglia di tornare in campo immagino e spero che anche per la squadra sia così sicuramente lui per allegri per la nuova dirigenza che si gioca le sue carte per giuntoli chissà poi chissà l'ennesima potenza però il lascito di questi sei mesi adesso è qua poi storicizzato è una è una delle è una somma di provvedimenti tre che erano assolutamente raccontati prima voleva dire essere stati colti a fare qualcosa di incredibile e a me e a me e a me te lo dico chiaramente a me tutto questo incredibile poi si può giocare sul dettaglio la la i i sei milioni per quello i sei per l'altro ma ragazzi ma il calcio vive da da sempre soprattutto da quando è diventato un'industria a tutti gli effetti da quando le società non sono più associazioni eccetera diventato è è sempre stata questa cosa qui e lo è in serie c con le cifre della serie c in serie b con le cifre della serie b in serie a con le cifre della serie a in Champions League in Champions League trovo trovo pessimo pessimo ehm aver chiuso parlo ovviamente un ciclo incredibile e che e che è sicuramente macchiato da una somma di provvedimenti totalmente sproporzionati cioè questo lo dico perché oggi ci va bene ho visto gente fare la festa perché non fa la conference secondo me non c'è niente da festeggiare c'è la Juve comunque resta con esclusione in più aggiunta a tutto il resto anche l'esclusione dalle coppe europee poi queste conseguenze anche il mondiale per club eccetera io trovo molto grave che che ci possano essere state delle pacche sulle spalle io non le ho viste non lo so ma leggevo qualcosa del genere e lo trovo lo trovo grave dal mio punto di vista lo trovo trovo che che le parole dell'azionista di maggioranza non abbiano trovato grande riscontro negli atteggiamenti poi per carità tu sai che ti può calare un macete dall'alto nel sistema calcio funziona così ma vivere questa questa somma di fattori come una cosa liberatoria mi sembra sinceramente un po' troppo per quelli che sono i punti che eh sui punti intendo dire i fattori sui quali si è giocata questa partita che poi scopriremo un giorno a livello penale davvero quale peso avrà allora Riccardo io ora sfruttiamo però Riccardo sul campo Riccardo dici intanto se è un vantaggio o uno svantaggio sul campo e arriviamoci al discorso di Edoardo da entriamo nel sul sui temi caldi la Juve ora cos'è perché sai che c'è chi ti dice il mercato per ora è pressoché nullo anzi abbiamo perso gli unici due dei piedi buoni come Quadrato e di Maria e non lottiamo a tre anni per lo scudetto c'è chi ti dice la rosa era più forte non hai le coppe l'allenatore lo stesso da tre anni Riccardo vai svelaci il tuo pensiero e dice secondo me la Juve è forte era forte l'anno scorso è forte quest'anno sarà forte più o meno sempre perché al di là di come la si pensi non valutare il valore di una rosa che ha gente come Bremer come Danilo come Scesni come Blauvic come Chiesa eccetera 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 non la possiamo non valutare una rosa forte ehm hai perso Quadrato hai preso QA secondo me non ci hai rimesso per la situazione attuale di di Quadrato hai perso Di Maria che credo che se vogliamo dare una scala di voto da una a dieci la passata stagione ha fatto tre quindi non credo sia una grandissima perdita eh anche nella gestione degli altri giocatori rispetto a lui nel senso che devo andare in campo Di Maria dovevi non mandare in campo Milic che ha sempre fatto bene eh deve giocare di meno Blauvic deve giocare di meno Ken che mi rendo conto di essere in minoranza ma è un giocatore che secondo me ha un potenziale completamente inespresso e un valore eh e soprattutto Chiesa che è quello che ci ha rimesso di più sia per gli infortuni che perché quello che dicevi in apertura certamente non è l'idolo tecnico tattico dell'allenatore quindi eh la perdita di Maria non è una perdita e quella di Quadrato è rimpiazzata meglio del quadrato attuale da UEA quindi la Juventus secondo me è forte e l'assenza di coppe la può rendere soltanto più forte perché chiaramente non c'è più la giustificazione delle tre partite una settimana non c'è più quel tipo di stanchezza una partita settimana è un capolavoro quando punti al campionato e quindi secondo me da questo punto di vista è un vantaggio come diceva Luca a livello di status a livello di quello che è successo non è che puoi essere felice di essere estromesso dalle coppe sul campo sulla settimana sul poter lavorare certamente ti può risultare un vantaggio ma è un vantaggio figlio di uno svantaggio ovviamente allora Riccardo ragazzi lo sapete segue il calcio internazionale da sempre ripeto lo sapete lo ve lo dico ogni volta ci conosciamo da prima è sempre stato iper appassionato figurati ora quindi qualunque domanda Luca è un altro grande appassionato di calcio internazionale quindi solo una cosa hai anche dei giovani che arrivano con un anno di esperienza di Juve in più e che comunque si erano già messi in mostra l'anno scorso anche quelli sono delle risorse importanti per il gruppo interessante anche questo allora io giusto anche questo fagioli l'anno scorso è un enigma totale oggi non lo è tanti altri allora Riccardo io ti faccio una domanda ora poi vi chiedo anche se vi va di andare sul mercato l'idea Lukaku il resto se Luca anche ha delle domande per Riccardo che gira il mondo per telecronache e passione la mia è questo il mio dubbio sulla Juve Riccardo io devo fare sempre a contraltare se c'è repice gli dico che non vedo calcio a due anni non vedo risultati a due anni a te cerco di dire l'opposto per sentire un contraddittorio cioè io ti chiedo questo Riccardo io non sono personalmente molto ottimista un motivo è che l'allenatore in questi due anni si è mostrato regredito è uno dei motivi però non vedo perché tanto più se voi lo dico a te era edo a tanti che lo pensano lo ritenete regredito la Juve debba essere improvvisamente debba ritrovare il grande smalto ad agosto è un problema l'altro con questa rosa si è dimostrato magari era grandissimo con Vidal Polpirlo Marchisi o Pogba eccetera eccetera oggi come oggi abbiamo visto che non sembra nel momento migliore per usare un eufemismo la società Riccardo io sono abituato a vedere la Juve da piccolo fortissima mi hanno sempre spiegato non guardare se c'è Torricelli o Pessotto o Bonini c'è la Juventus che è forte insomma non per il potere il palazzo dico non per quelle scemenze là poi ovviamente la Juve saprà farsi sentire come ovvio come tutte le grandi squadre ma niente devo dire c'è una società solida dicevano i calciatori devono concentrarsi solo sul campo quello ora è arrivato giuntoli per fortuna io personalmente ti dico il mio secondo dubbio la società io non la vedo così da Juve già così solida pronta in campo extracampo in lega dentro per chiudere i problemi per non farli trasparire non la vedo ancora tutta unità tre ho visto la società quasi non confermare l'allenatore e l'allenatore quasi manda a quel paese qualche dirigente e ripartiamo così boh perché c'è un contratto quattro sui giocatori ti dico i più bravi Vlaovic Pogba diciamo sono i nomi che veramente fanno cambiare la squadra problemi anche fisici oltre che di gioco lo sappiamo e non li neghiamo mai li hanno Pogba proprio non c'è Vlaovic è uno che speriamo alla pubalgia tanti ci spaventano un po' chiesa vabbè ora speriamo che sia l'anno definitivo c'è nell'insieme io non riesco a capire una squadra che non lotta a tre anni il Napoli ci ha dato 20 punti ha perso solo Kim io ci credo è per me possiamo lottare Riccardo dobbiamo fare più e dobbiamo lottare ma mi dai un po' di luce o qualche mia analisi è corretta in questo in qualche tua analisi è corretta io dico che se guardi il valore complessivo della rosa è una rosa che può che può lottare non vuol dire che la Juve è favorita e se non vince lo spudetto è uno scandalo dico che la Juventus ha una serie di giocatori giovani misti a giocatori meno giovani e come ricordava Edoardo l'allenatore del parolo della serie A per il quale è normale doversi attendere che la Juventus lotti per il campionato in più e dico che realmente sono giocatori della Juve che a me piacciono molto però condivido quelle tue obiezioni le condivido tutte soprattutto quella sulla società in nella Juve che conosco io la vicenda Bonucci finisce in un'altra maniera non finisce come sta finendo come finisce Riccardo finisce con Bonucci che rimane che si spiega all'allenatore che non può decidere di fare per le sue cose personali fuori uno che ha fatto la storia della Juventus rimane magari come ultima scelta perché l'allenatore preferisce Rugani Alessandro boh va bene facciamo che preferisce Rugani Alessandro per per una cosa tecnica e non per una cosa personale ma di certo Bonucci rimane a farsi le venti partite che ha fatto Giellini l'ultimo anno che ti può dare certamente un contributo se lo usi tutte le partite come i primi quattro mesi peraltro giocando a quattro non gli fai un favore non ti fai un favore se non lo usi mai come il finale stagione non gli fai un favore non ti fai un favore visto che la Juventus giocherà a tre io penso che Bonucci le sue venti partite le potete fare con grande serenità Riccardo ma secondo te con Mogi dirigente Bonucci si permetteva di comportarsi come si è comportato ovvero la società ti comunica che non sei più nel progetto e tu fai finta di nulla siamo sicuri che nella Juventus una volta Bonucci non sarebbe stato messo fuori rosa siamo sicuri che nella Juventus di Boniperti Bonucci non prendeva la valigia e la porta due ore dopo che Boniperti gli aveva detto non era più nel progetto ma dipende di che cosa stiamo parlando io penso che non ci sarebbe arrivati a mettere fuori dal progetto uno così ma perché sono due anni che non gioca a calcio Bonucci Riccardo non è vero come non è vero non è vero non è vero devo dire Riccardo devo dire una cosa c'è ci sono tanti precedenti sfumati di giocatori a fine carriera che alla Juve sono stati gestiti non sempre tutti in fotocopia no quindi ci sono tante casistiche mi viene in mente Marotta che arriva e la una delle prime cose che gli tocca fare ma la fa perché capisce che la cosa giusta e mettere nella stessa condizione che oggi vediamo Bonucci David Treseguet non so se ricordate la battaglia d'uscita in quell'estate 2010 David Treseguet che indicava la maglietta e diceva quello no quello è quello in B ma poi quando arriva Marotta che deve cambiare prende e la scelta e Treseguet deve uscire glielo si dice lui non ne vuole non ci sente i tifosi stanno male per David però poi alla fine si risolve che lui va in una squadra di terza fascia e pace e tra le parti ci si è lasciati malissimo poi oggi David è anche stato un grande ambasciatore Juventus all'epoca un anno dopo si rifiutò di partecipare all'inaugurazione dello stadium proprio perché era ancora diciamo la coda di quella cosa lì quindi quello che intendo dire che ogni caso ha un po' delle peculiarità ma nello specifico di questo Luca perdonami se fosse rimasto anche a fare il quinto dietro allo splendido alexandro che da tre anni in picca le partite della Juventus cioè quale sarebbe stata la grande problematica la Juve non ha Ruben Dias, Skriniar, Danilo e Bremer questo voglio dire era tranquillamente in nella possibilità tolti facciamo che Gatti Bremer e Danilo fanno i tolari nella possibilità di stare lì dietro in serenità non ti creavi un problema dentro casa evidentemente Riccardo Bonucci non è un calciatore che accetta facilmente di fare il quinto in banchina è così ci sono giocatori che hanno un carattere è una presenza tale per cui non riesce a metterli da parte non riesce in realtà in realtà non è così in realtà non è a me a me quello che risulta io su questo discorso caratteriale dico che è sempre stato come tutti i caratteri che hanno una punta forte o in un modo o nell'altro sono sempre un grande pregio in certi momenti della tua carriera diventano un grande difetto e pace no quello che risulta a me è che non sia una cosa unicamente personale con Allegri cioè è ovvio che il tema Allegri è un tema che esiste legato a Bonucci però attenzione perché anche nei rapporti con questa nuova società Bonucci aveva insomma negli ultimi cinque sei mesi ha fatto dei passi delle mosse delle scelte che sapeva perché Bonucci è un ragazzo intelligente sapevano potevano diventare anche un boomerang tant'è che da quello che so io ben almeno due settimane prima di quello che è uscito poi come decisione la Juve prende la macchina va forte eccetera Bonucci era già consapevole e l'aveva confidato ad alcuni anche ex compagni diciamo così che quello sarebbe stato il provvedimento della Juve perché in qualche modo inevitabile come conseguenza di alcune di alcune esternazioni niente di grave però lui ha preso delle posizioni molto drastiche nette quindi nelle relazioni in questo momento dentro questo parco Juventus che è composto da Allegri ma è composto anche da Calvo ma è composto da questa linea che risponde a John Elkan insomma lui ha fatto e si è mosso in un modo e in quella partita che ha giocato Bonucci in ultimi 3-4 mesi lui sa e sapeva già prima di essere uscito da sconfitto poi lui ha il contratto e vedremo come va a finire questo non lo sappiamo ancora come andrà a finire esattamente perché lui sappiamo che vuole giocare Riccardo quindi questo ci indica il fatto che alla Juve non resterà è un punto in più per la separazione il fatto che lui senta di voler giocare. Sì sì ma io discutevo solo il fatto del fuoriosa non che Gioca poteva giocare pure zero minuti senza essere fuori rosa cioè questo è il discorso io non sto dicendo questo siccome Massimo parlava della situazione societaria eccetera eccetera la situazione societaria secondo me non ha gestito bene la vicenda di uno che alla Juventus qualcosina ha dato nella sua carriera. Io do una giustificazione alla gestione del caso Bonucci che dal punto di vista se vuoi mediatico non è piaciuto nemmeno a me. Il club Juventus in queste settimane aveva ben altri problemi ai quali bottarsi con più impegno che era purtroppo sempre le battaglie all'interno delle alle di giustizia sportive quindi e aveva anche una società che si stava riorganizzando per l'arrivo dei giuntoli con la città della vecchia dirigenza e quello che stiamo vedendo in queste settimane è figlio di tutto quello che c'è stato perché se la Juventus quest'anno va a perdere mal contati un cento milioni di introiti e se la Juventus quest'estate non può fare mercato perché per far mercato deve vendere e forse dopo che ha venduto qualcosa riesce a fare è una Juventus che quest'anno va bene mettiamo la favorita perché la Juventus quindi per blasone favorita. La Juventus quest'anno parte adennica perché vediamo che squadra avrà alla fine del mese in campo la Juventus, vediamo chi andrà via, vediamo chi non comprerà perché la Juventus non compra, non ha soldi, la Juventus non compra. Già in un mercato a sfitti o con quello italiano dove praticamente stanno andando a comprare al discount i club italiani la Juventus comprerà ancora meno e questo vuol dire e questo vuol dire che quest'anno la Juventus non parte favorita. Poi io spero vinca lo scudetto ma se mi dite a dire che le Juventus parte favorita certo scopriamo a settembre che Pogba è tornato il giocatore di sei anni fa e finalmente torneremo a avere Pogba in campo. Io ne dubito purtroppo che Pogba potrà tornare a essere quel giocatore che noi abbiamo ammirato. Io spero davvero che Chiesa riprenda dall'infortunio brutto che lo ha spaccato. Del Piero ci mise due anni a riprendersi da quel brutto infortunio di Udine. Chiesa si sta avvicinando, io spero fortemente che Chiesa torni ad essere il Chiesa che eravamo. Allegri ha fatto male l'anno scorso, magari farà male anche quest'anno, quindi come diavolo vi viene in mente di mettere... Scatenato, però scatenato finalmente dopo sette puntate in cui non ha detto una parola me l'hai ricaricato Riccardo. Sono io, sono io che lo carico. Calcola che erano sette puntate in cui gli chiedevo ma secondo te Lukaku? Ma perché a me il mercato annoia. Finché qualcuno non arriva, è inutile che parli. Dico allora non ci vieni qua.